A Giulianova, sul lungomare nord, al posto dell'ex auspizio marino potrebbe sorgere una nuova residenza per anziani. Nel frattempo l'ex ospedaletto in Viale dello Splendore è stato inserito tra i beni allinabili della regione e potrebbe essere venduto tramite l'ASL entro la FIEL 2024. I proventi della vendita e della riconversione dei due edifici saranno reinvestiti come d'accordi tra ASL e Comune nell'ospedale di Giulianova che necessita di interventi strutturali. Stiamo lavorando in stretta sinergia con l'ASL ma soprattutto con la sovrintendenza che ringrazio per trovare la migliore soluzione possibile per far sì che venga non solo alienato il bene, ricordo che tutti i soldi della vendita dell'ospizio marino e dell'ospedaletto finiranno nella ristrutturazione del nostro ospedale ma anche nella totale tutela del manufatto che è un manufatto storico che racconta tanto della storia della nostra città. In passato l'ex ospizio ospitava il distretto sanitario, la sede della Croce Rossa e vari uffici che sono stati trasferiti nella Residenza Sanitaria e Assistenziale RSA di Bivio Bellocchio ristrutturata con 3,5 milioni di euro stanziati dalla regione mentre l'ex ospedale in via dello splendore abbandonato negli anni 70 rappresenta un elemento di degrado per turisti cittadini che visitano il santuario. L'ex ospedaletto verrà demolito? Ah queste sono valutazioni tecniche che non spettano a noi, c'è una delibera regionale che dà già la possibilità della vendita dell'area dell'ospizio marino sull'ospedaletto ancora non c'è la delibera regionale per la messa in vendita ma c'è la volontà della ASL di farlo nel minor tempo possibile. I tempi? Sull'ospizio marino penso che siano abbastanza brevi cioè penso che verrà fatto un bando entro la fine dell'anno sull'ospedaletto invece le valutazioni sono un po' più lunghe perché naturalmente ripeto c'è una delibera del Consiglio regionale che dà la possibilità di vendere e mettere a gara questi beni. L'obiettivo è quello di prendere circa 5 milioni di euro dalla vendita di tutte e due le strutture? L'obiettivo è vendere al miglior prezzo possibile perché quei soldi lo ripeto saranno utilizzati per il rifacimento e il potenziamento dell'ospedale Giuliano quindi noi intendiamo in ogni modo far sì che l'ospedale Giuliano diventi una struttura moderna e all'avanguardia con l'ospedale Hub di Termo.